Buongiorno, mi chiamo Michele Zabeo e sono con mio fratello Flavio, titolare della Samac di Montebelluna. Samac nasce nel 1977 da un'idea del papà Luigi. Per quanto riguarda i prodotti per la calzatura, noi spaziamo dai tessuti, tessuti tecnici, che sono praticamente la base da cui Samac è partita, è nata e arriviamo fino alla produzione di pelle. Il nostro punto di forza è il servizio e il riuscire a soddisfare le varie esigenze dei clienti. Per fornire un servizio sempre migliore ai nostri clienti, una serie di agenti si muove da nord a sud nell'Italia. Inoltre abbiamo seguito i nostri clienti anche all'estero, aprendo un magazzino di proprietà in Romania. Per il futuro la mia intenzione è quella di portare Samac e i prodotti di Samac anche su nuovi mercati, senza però dimenticare i nostri clienti che ci hanno permesso di arrivare dove siamo attualmente. Samac, trasparenza, qualità e comunicazione costante con il cliente per ottenere il risultato da lui richiesto.